La vastese a Genzano per proseguire la rimonta in classifica contro una cinzia albalonga pronta a riscattare la debacle interna nel recupero contro il Campobasso. Nel 4-3-3 di partenza dei padroni di casa non c'è Spano al suo posto Cardillo. A centrocampo ha Otange Lilli sulla mediana, retrocede Panaioli vista la squalifica di Di Cairano. D'Aderio ex della gara disegna un 4-2-3-1 con Mamona la prima da titolare a sostegno dell'unica punta Martinez. Martinez, indisponibili, sorgente e martiniello. La formazione bianco-rossa parte subito con il piglio giusto già al decimo quando Obodo da calcio piazzato chiama la parata in tuffo Maddalena. Tre minuti e Martinez approfitta di una verticalizzazione di Di Prisco ma l'attaccante argentino davanti a Maddalena prova un timido cucchiaio parato. La cinzia alla prima occasione sblocca la gara. Dal limite dell'area di rigore Oggiano con il mancino stoppa la sfera di segno, la soterra imprendibile per Di Rienzo. La vastese non si scompone a metà primo tempo a due occasioni per pareggiare ma le conclusioni di Martinez prima e poi di Mamona vengono rispedite al mittente. La cinzia che sembra pagare le fatiche del recupero di quattro giorni fa va avanti a folate come al venticinquesimo quando da calcio piazzato il mancino di Cardella colpisce in pieno l'incrocio dei pali. Questa volta però si ribaltano i ruoli e a pareggiare sono gli ospiti. Dalla destra cioccolatino di Di Rà per Martinez che si stacca dalla marcatura del difensore con un tiro a volo pulisce Maddalena sul primo palo. La formazione abruzzese ha l'occasione di ribaltare il parziale un minuto dopo ma il bolide di Obodo dalla distanza fa tremare la traversa Maddalena abbattuto. La ripresa riparte sulla falsa riga di come si era chiusa la prima frazione. Per il primo tiro in porta bisogna aspettare il decimo con Van Ransbeck che da calcio piazzato chiama la battuta da limite Oggiano ma il suo mancino è altissimo. Nella ripresa per la prima volta la vastese si fa vedere solo al ventesimo quando Le Noci dopo essersi accentrato conclude male con il mancino. Gli Aragonesi scendono di intensità allora D'Addario soffruisce di un triplo cambio e manda in campo Solimeno, Meola e Franzese in luogo di Le Noci di Array Martinez. Poco prima della mezz'ora è Oggiano a provare l'azione personale ma la sua conclusione finisce alla sinistra di Di Rienzo. Alla mezz'ora la Cinzia resta in dieci. Fallo di reazione di Gagliardini su Meola ma pesa qui l'errore del direttore di gara che ferma la vastese in campo aperto. Dalla punizione che ne segue sbuca in mezzo all'aria Mamona che chiama il miracolo Maddalena. La vastese con l'uomo in più ci crede ed è il migliore in campo Bodo a suonare la carica ma il suo tiro dalla distanza finisce lontano dalla specchio della porta. Prima del fischio finale tenta l'Euro goal Carruolo che da centrocampo prova a sorprendere Di Rienzo fuori dai pali ma la sfera finisce fuori. Si tornerà subito in campo mercoledì per il turno infrasettimanale con la vastese che ospiterà all'Aragona il Tolentino.